Dalla vita interna di Gesù Cristo e di Suor Maria Cecilia Bai. Libro quarto, capitolo primo. Ciò che operò il figlio di Dio nel suo interno dal primo istante che partì da Nazareth e andò a Gerusalemme al Tempio per dar principio alla sua predicazione, fino a ciò che fece ritorno in Nazareth per cui vi predicare e rivedere la sua diretta madre. Undicesima. Ed ultima parte. Il complotto degli iscrivi e farisei, alla volta di Nazareth, i veri e falsi fratelli, esortazione alla sua sposa. Terminata la predica e soddisfatti, no, andato al Tempio e adorato qui il Divin Padre ed implorato il suo aiuto, come ero solito, ed essendo venuta molta gente per udirmi, feci la mia predica, come ero solito, istruendo la folla ed insegnando loro il vero sentiero della salvezza. Tutti restavano sempre più ammirati e stupiti della mia Divina Savienza. Non si videro in quel giorno gli iscrivi e farisei perché erano restati molto confusi il giorno avanti, perciò si ritirarono facendo consiglio come poter fare per levarmi dal mondo e darmi la morte. Io mi consigliavo col Padre mio per trovare sempre nuovi modi per dare loro la vita della grazia. Molte volte costoro fecero consiglio fra di loro e ciò che fecero te lo dirò a suo tempo. Terminata la mia predica e data soddisfazione a tutti quelli che dopo venivano da me, domandata la benedizione al Padre mio uscire al Tempio da solo e mi avviai a Nazareth, mia patria, per rivedere la mia diretta madre e per insegnare anche qui la via del cielo. Nel mio viaggio recitavo le lodi al mio Divin Padre e dopo lo pregavo che si degnasse di illuminare quella gente perché accogliessero la mia predicazione. Ma vedi che per quanta luce avrebbe dato loro il mio Divin Padre, essi non ne avrebbero fatto alcun conto e che pochi ne avrebbero approfittato. Era già corsa a Nazareth la fama della mia predicazione dei prodigi e miracoli che io facevo in Gerusalemme. Ma poiché mi ritenevano uomo semplice ed ignorante, non vi credevano. Ed il demonio che con tutto il suo potere mi perseguitava, pose nelle loro menti molte cose contrarie, falsità e sospetti circa la mia dottrina. Intesi molta afflizione nel vedere che i miei stessi compatrioti mi avrebbero calunniato e disprezzato. Con tutto ciò andai con fervore a portare loro la salvezza dell'anima e predicare, far conoscere ad essi la verità della mia dottrina. Andai perciò con grande desiderio di aiutarli, pregai il Padre mio di dare ai miei fratelli un tale desiderio, cioè di giovare alla salvezza del loro prossimo. Quantunque conoscano di non essere graditi ed apprezzati, facciano tutto quello che sanno essere necessario per la salvezza di quelli che non se ne curano e non vogliono essere illuminati. Perché non abbiano da potersi scusare nel dire che non hanno avuto chi gli abbia insegnato la via che li conduce al cielo. Li promisi il Padre mio di dare questa grazia ai miei fratelli, a quelli che si impegnano in tale ufficio. Sappi, sposa mia, che io chiamavo tutti i fratelli, ma vi era distinzione tra i veri e i falsi, perché quelli che deviano dai miei insegnamenti e che non mi vogliono seguire e limitare non sono i miei veri fratelli. Non di meno, essendomi fatto uomo simile ad essi, guardavo tutti come i miei fratelli. E domandavo al Padre mio le grazie in generale, senza escluderne alcuno. Quando poi domandavo le grazie particolari come sono l'aiutare le anime, il convertire gli infedeli, il ridurre i peccatori a penitenza, riguardavo quelli per i quali invocavo le dette grazie come miei veri fratelli, perché mi avrebbero imitato ed avrebbero adempiuto la volontà del Padre mio. Non tralasciavo perciò di mirare come miei fratelli anche tutti gli altri, quantunque peccatori, perché avevo preso la loro sembianza, addossandomi tutte le loro colpe per darne al Padre mio una soprabbondante soddisfazione, offrendomi a pagare i loro debiti e a soddisfare per tutti. Pregavo il Padre mio di dare un tale sentimento ai miei veri fratelli, cioè a tutti quelli che mi imitano e fanno in tutto la divina volontà. Desiderano dare soddisfazione per il loro prossimo che vive immerso nella colpa e di pagare i loro debiti. Facciano penitenza per i colpevoli unendo le loro penitenze con i miei meriti perché abbiano valore e perché un tal atto è molto gradito al mio divino Padre e volentieri l'accetta essendo unito ai miei meriti. Lo pregai con grande insistenza tanto più che acquisto un gran merito chi fa ciò con buona volontà e molte volte il Padre mio si compiace talmente di questo che piega benignamente la sua divina misericordia verso il peccatore in modo che si ravvede e si converta in virtù di quella penitenza unita con i miei meriti e perciò già ti ho detto che pregai il Padre con grande istanza di dare un tale desiderio a tutti quelli che mi imitano e mi seguono da presso. Mi promise il Padre questa grazia vidi che molti se ne sarebbero avvalsi ed avrebbero acquistato gran merito e molte anime si sarebbero convertite a penitenza di ciò molto mi rallegrai anche per il gusto che ne aveva il mio divin Padre e gli resi le dovute grazie esortazione alla sua sposa tu sposa mia abbia un vivo desiderio di giovare al tuo prossimo e poiché il tuo Stato non ti permette di fare quello che tu vorresti offri almeno tutto quello che tu padisci al Padre mio unito con i miei meriti in soddisfazione delle offese che continuamente riceve dai peccatori prega per la loro conversione perché darai molto gusto al Padre mio ed acquisterai grande merito per l'anima tua beata te se per mezzo delle tue penitenze delle tue offerte e preghiere si convertiranno i peccatori a penitenze allora sarai mia vera imitatrice perché io mentre vissi in terra tutto mi impegnai per la salvezza delle anime nel tuo interno tu puoi imitarmi porgendo continue supplicate al Padre offrendogli continuamente le mie opere i miei meriti, la mia passione tutte le tue opere meritorie uniscile a queste e offrile per questo fine sta certa che io ti ho eletta per mia sposa e da questo fine ti manifesto tutto quello che operai nel mio interno perché voglio che tu mi imiti perfettamente e già che brami di essere mia vera e fedele sposa ed assomigliarti a me fa quello che io ti ispiro e che tu senti che io feci per la salvezza del tuo genere umano e tua non stare mai oziosa la opera continuamente nel tuo interno per la salvezza tua e dei tuoi prossimi Audentur Iesus et Maria allora carissimi amici abbiamo oggi nel paragrafetto i veri e falsi fratelli proprio un concentrato di purissima dottrina cattolicissima e di indicazioni fondamentali per la nostra vita spirituale e ascetica al tempo stesso cari amici comprendendo bene le cose che il Signore ci dice abbiamo anche dei non lievi non piccoli criteri di discernimento per renderci conto di quanto certe chiavi di lettura oggi non è che siano così tanto utilizzate il problema è che sono le uniche corrette e quindi prima ci impariamo ad utilizzarle o a riutilizzarle meglio sarebbe dire perché sono state sempre utilizzate e meglio è dunque premesso va bene anzitutto parte da Gerusalemme e c'è il complotto tra farisei e scrivi sappiamo bene ampiamente attestati dai Vangeli c'è una nota qui che rimanda explicitamente ai passi dei Vangeli dove si parla di questo ma tutti lo sanno quindi non c'è neanche troppo bisogno di evidenziarla una tensione una guerra cominciata subito e che poi sappiamo come si è conclusa in maniera drammatica e sappiamo anche che la guerra è iniziata solo per volontà della parte belligerante perché Gesù non ha fatto assolutamente nulla se non dire la verità per innescarla ma come ci ha fatto notare ha conservato sempre modi affabili modi dolci modi amorevoli nonostante che questi non se li meritassero appunto perché lui ha uno stile a cui evidentemente non intende rinunciare questa è fondamentale che la teniamo presente sempre dopodiché lui si volge verso Nazareth e sa bene anche qui capite la nostra l'aderenza di quest'opera ai Vangeli è evidente perché sappiamo tutti c'è il capitolo quarto di Luca che spiega che Gesù è tornato a Nazareth lui lo colloca dopo dopo le tentazioni nell'eserto ma si capisce benissimo dal testo del Vangelo scritto dice ah medico cura te stesso quanto è operato a Caparno a farlo anche qui quindi si capisce che la fama della predicazione di Gesù era già arrivata ed anche il fatto che aveva fatto i miracoli perché lo stavano tutti quanti scrutando per vedere quello che combinava quindi questo è un dato storico e di fatto inoppugnabile eppure lui sa bene che sarebbe andato a prendersi come ci dice chiaramente calunnie e disprezzi dai suoi concittadini che lo reputavano pensate un po' semplice ed ignorante qui a volte anche quando si pensa un po' all'umiltà di nostro Signore Gesù Cristo che ha accettato di essere considerato in quel modo cioè ma di che cosa vogliamo parlare non ce l'ha capito cioè lì ci sta la sapienza stessa la scienza stessa l'onnipotenza stessa capito ignorante e lui accettava di passare in questo modo nel senso attenzione non è che avallava queste cose però si lasciava umiliare insomma quindi lasciava pensare in questo modo lasciava quello che dicessero in giro mi viene in mente un'espressione di Sant'Omaso l'unica volta in cui si altera un po' che dice si vergognino lui lo dice a proposito che a un certo punto l'unica volta nella somma contra gentile l'unica volta che Sant'Omaso d'Aquino perde il controllo infatti c'era una nota che dice non ce l'hai perché stava dicendo delle cose belle adesso non mi ricordo di quale verità e a un certo punto fa la glossa e si vergognino dunque quelli che dinanzi a cose tanto sante e belle stanno a perdere la vita e l'anima appressa al mondo roba del genere infatti l'autodicione prima è l'unica volta che Sant'Omaso si è concessa una licenza poetica di questo genere no? però certo che se uno ci pensa un po' insomma no? e questo ovviamente dà l'occasione al Signore di raccomandare ai predicatori disprezzati e rifiutati di fare il loro lavoro perché nessuno possa dire ah ma a me non me l'ha mai detto nessuno come molti dicono non sempre senza colpa oggi poi diventa veramente complicato perché con i nuovi strumenti anche se sappiamo che sono usati per tanto male però quando tu veramente su web strasemini botte da 4-5 mila video insomma eh pensate quanta gente può entrare in contatto con queste cose anche io adesso a prescindere da chi l'ha fatto non ci stanno solo le mie sono decine di migliaia di video santi di santi sacerdoti e di santi ministri del Signore no? però c'è un bacino di gente anche se evidentemente tra i miscredenti perché collaboratori mi ragguagliano su certi commenti scrivessero pure certi commenti adesso non è il problema dell'offesa che tanto poi vengono eliminati e pazienza no? però il problema è che quello l'hanno scritto l'hanno scritto perché a quello che hanno sentito c'è stata una certa reazione stanno rendendosi conto che anche sentirti in uno shot 45 minuti se tu stai messo molto male 45 secondi scusate potrebbe essere una grazia una chance è per questo questo lo dico perché tanto qualcuno fa l'ironia gli shorts non li faccio io perché chi c'ha tempo di fare quelle cose tutti i tanti giorni ci sono dei generosi collaboratori che ci perdono tempo e energia che vanno a a costruire quel piccolo video proprio in considerazione del fatto che potrebbe diventare un modo per raggiungere magari anche un grande peccatore che non si sentirà mai neanche 5 minuti di omelia di un prete ma gli capitano short sulla home della home page e capitano cose di questo genere ovviamente è una radità chi ascolta lo short si converte la maggior parte degli atei o degli miscredenti ti insulta anche pesantemente pazienza chi se ne importa no? quindi non bisogna stancarsi le omigazioni si sono prese il nostro signore se le prendono anche i suoi buonanotte no? nessun problema adesso però andiamo ai veri e falsi fratelli cosa ha detto Gesù nel Vangelo? chi è mia madre e che sono i miei fratelli chi fa la volontà di Dio dice una parte oppure chi ascolta la parola e mette in pratica e non altre è per me fratello sorella e madre quindi veri e falsi fratelli d'accordo è chiaro che lui tratta bene anche i falsi fratelli ma ci stanno i fratelli veri e i fratelli falsi giusto cioè la terminologia bisogna fare sempre molta attenzione e Gesù la specifica perché se dice che mio fratello è chi fa la volontà di Dio perché chiami perché chi è fratello il miscredente è quello che ti perseguita lo chiamo perché perché io sono diventato uomo e sono venuto per prendermi su di sé i peccati di tutti quindi in questo senso per la comunanza della natura umana posso chiamarlo senza mentire in questo modo ma non è un mio vero fratello e qui perdonatemi è la stessa differenza che c'è dice siamo tutti figli di Dio gli esseri umani bisogna fare qualche distinguo i battezzati sono figli di Dio in senso stretto e proprio perché sono figli di Dio per adozione hanno ricevuto la grazia santificante non battezzati non sono figli di Dio in questo modo non si ha nessuna paura di dirlo perché la grazia santificante non ce l'hanno sono tra virgolette figli di Dio in quanto da lui creati quindi opera delle sue mani come si dice che un architetto dice oh quella casa ah vedi quella casa è figlia mia non è sua figlia come quella che ha fatto con la moglie ma è un'opera delle sue mani in cui l'architetto si riconosce perché chiaramente ci ha messo il suo stile quindi ogni essere umano ha l'anima ed è creato da Dio è chiaro che tutti sono figli di Dio in questo modo ampio ecco però meglio sarebbe dire sono tutti creature di Dio questo è il senso proprio non il senso lato e figli di Dio in senso stretto è la stessa cosa che vale è la stessa cosa che vale questo si vede bene nel greco nei Vangeli Gesù è il figlio di Dio certo noi siamo figli di Dio certo quindi che vuol dire noi siamo come lui ma anche no perché quando Gesù si chiama figlio di Dio qui ci vogliono le finezze della conoscenza del greco usa il termine huios huios è il figlio naturale è il figlio in senso stretto figlio figlio quando parla di noi usa tecna tecnon non è il figlio naturale ma è il figlio adottivo siamo figli di Dio ma siamo figli adottivi io mica sono come Gesù Cristo mica sono Dio da Dio da Dio da Dio sono pure peccatore figlio di Dio che ringraziamo il Signore che segna di chiamare così perché anche se stiamo in grazia parlo per me innumerabili tutti i bus peccati tu pensieri non senza motivo prima della meditazione facciamo l'atto di dolore diciamo la verità perché ogni giorno se potessimo vederci con gli occhi con le lenti del cielo guardate che andremo a dormire non molto tranquilli perché partoriamo in continuazione quanto meno se tutto va bene quanto meno una autotreno proprio con rimorchio e retrocarica di imperfezioni se tutto va bene poi si scala ai peccati veniali semi deliberati poi a quelli di difetto poi a quelli di passione poi a quelli deliberati e poi speriamo di fermarci a quelli deliberati bisognerebbe arrivarsi però già se ci fermiamo prima facciamo perdere insomma no allora e infatti dice Gesù quando io chiedevo grazie particolari aiutare le anime convertire gli infedeli dei peccatori io le chiedevo per i miei veri fratelli e chi sono quelli che mi avrebbero imitato e dato in più la verità del padre mio quello che diceva il Vangelo i miei fratelli sono quelli che attenzione quando parla ecco perché ho parlato della quinta essenza della dottrina cattolica quando parla dei pazzi fratelli benché peccatori avevo preso la loro sembianza no qui c'è una citazione della lettera ai romani è apparso con una carne simile a quella del peccato ci sarebbe da farci una catechesi a parte non ho commento adesso no addossandomi tutte le loro colpe attenzione per dare al padre una soprabbondante soddisfazione sottolineo offrendomi a pagare i loro debiti e soddisfare per tutto soddisfare chi? la divina giustizia questo è uno dei termini oggi una volta c'era l'indice dei libri proibiti adesso quello lo hanno abolito oggi si potrebbe fare l'indice dei termini proibiti questo è uno soddisfare peccato che soddisfare fu il termine proibito il primo sapete che fu il primo a considerare soddisfare un termine proibito proprio che non lo poteva soffrire proprio c'aveva proprio l'indice che lo mandò in crisi che lo faceva disperare e che fu la molla che poi innescò tutto quanto il suo discorso eretico Martin Lutero per lui era inconcepibile che io debba fare qualcosa per soddisfare la divina giustizia ma scherziamo ma quale Dio sarebbe questo? compreso? e invece guardate Gesù come lo smonta non solo lo faccio io ma comincia poi a parlare di cosa? di quelli che lo imitano e non solo fanno in tutto la divina volontà attenzione ma desiderano loro dare soddisfazione per i loro fratelli che vivono immersi nella colpa e pagare i loro debiti guardate guarda che puoi farlo anche tu e posso farlo anche io e per esempio ecco perché alle cose bisogna pensarci bene perché la gente non ci pensa mica questa cosa qui la maniera perfetta per fare questa cosa è passare attraverso la consagrazione totus tuus che cos'è la consagrazione totus tuus? allora è questo è l'offrirsi il dare la vita come schiavo a Gesù per mezzo di Maria rinunciando attenzione questa cosa più importante al valore delle proprie opere buone presenti passate e future nel tempo e nell'eternità e cedendo a Gesù per mezzo di Maria in particolare il valore impetratorio e satisfatorio delle opere e delle penitenze compiute sapete che significa che se io sono consagrato totus tuus e faccio un digiuno quel digiuno appartiene il suo fatto alla Madonna la quale lo purifica da tutte quante le scorie con cui glielo offro perché anche quello sarà fatto in maniera imperfettissima da me peccatore lo offre a Gesù Gesù lo unisce ai suoi meriti e con quel digiuno può convertire un peccatore perché si converte un peccatore per queste cose e questo è l'unico modo per convertirli non le chiacchiere non le prediche nemmeno tanto meno le riunioni i convegni i sino di chiacchiere 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 a che servono quelle cose a parlarsi addosso a che servono qui ci stanno le anime da salvare usa il tempo vattene a fare un po' di opere penitenziali perché a fare opere penitenziali c'è pure un po' di tempo bisogna dedicarvi una parte del tempo se uno fa una via crucis facendo penitenza sapete che in certi monasteri io l'ho vista le sue ore di causura fanno la via crucis con la croce sulle spalle cioè se sono costruite delle croci pesanti che pesano 60-70 chili e se fanno la via crucis in ginocchio con la croce sulle spalle esistono ancora sono poche ma esistono fare una via crucis con la croce sulle spalle rivista almeno un'ora di tempo ammetticelo quello è tempo santamente impiegato tanto per dirne una la via mi è venuta in testa questa magari non è molto alla nostra portata uno magari fa la via crucis in ginocchio per dire per fare una penitenza ma queste cose bisogna farle bisogna farle è una delle cose in assoluto più gradite ed è una ma io devo amare il prossimo ma questa è la forma più eccellente di amore del prossimo non è andare a fare le opere buone i servizietti le cose per carità fanno bene anche quelle ma questa è un'opera meritoria ultra meritoria perché perché punta alla salvezza dell'anima della persona uno secondo noi non sappiamo noi non lo sappiamo adesso cioè tu fai una penitenza se sei consacrato tu stusso la Madonna se la prende dopodiché ne parla con il nostro signore dice va per il peccatore X magari questo qua è un fresco che vive in Cina che ne so io e il signore ha preso quella penitenza che hai fatto per dargli una mozione della grazia gli ha parlato nel cuore quello l'ha ascoltato l'ha convertito nessuno sa niente lo saprai quando sei morto quindi un'opera del genere non soltanto che era più importante perché punta alla salvezza dell'anima e costa perché fare la penitenza costa quando cominciamo a soffrire un po' nella nostra carne avrà un po' lo fa un digiuno impegnativo poveri come piagni non il digiunetto scusatemi quello tranquillo a pane e acqua abbiamo visto che Gesù ci mangiava con il digiuno a pane e acqua quindi sì per carità era un digiuno ma lui ci mangiava ok e abbiamo visto che faceva quando faceva il digiuno ed nisbassoluto anche a Nazareth avrà un digiuno così ma vedi come stai la sera piano a dormire insomma è pesante è doloroso poi quando sarai morto il nostro signore ti dice bene grazie fratello mio fratello ti ricordi quel giorno è stata una giornata di triste è stata dura è stata dura ce la facevi più ce la facevi più lo so guarda un po' chi è venuto in paradiso grazie a quella cosa che hai fatto oggi guardalo un po' quello lì lo vedi e quello lì tra l'altro verrà da noi a dirci grazie capito come noi diremo grazie a tante persone che hanno pregato e sono sacrificate per noi perché funziona così nella comunità dei santi allora dici ah non c'è carità che è non c'è non c'è carità perché non faccio volontariato non tutti sono chiamati a fare il volontariato che è una cosa bella e importante ma il volontariato non è la cosa più importante perché il volontariato va comunque a sollevare una necessità o un'infermità del corpo legata alla vita temporale ripeto questa è una cosa importante perché se uno si muore di fame c'è pure bisogno di qualcuno di dar un pezzo di pane per carità di Dio ma non è la cosa più importante e non è nemmeno la ragione di essere primaria della Chiesa la Chiesa non è costituita principalmente per sollevare la necessità del corpo queste cose dovrebbero farle le autorità temporali che sono appunto preposte alla cura del benessere temporale dei fedeli non soltanto dei fedeli degli uomini la Chiesa si preoccupa del benessere spirituale dei suoi figli e della salvezza delle anime in primis certo che dopo quando se può e come può ci sono state una montagna di santi che hanno esercitato la carità in maniera eroica verso i malati verso i bambini poveri verso l'infanzia abbandonata di tutto e di più ci sta dentro verso i carcerati l'ordine della madonna della mercede quanti ne vogliamo però penitenza un tempo la facevano tutti la facevano tutti quanti pure i laici tutti quanti Petrarca ti piove un infarto quando si accorse quando si accorse che mi ricordo dalla scuola che la moglie portava che poi portava Cilizi addosso la moglie di Petrarca cioè erano cose normali un tempo non è che diceva ha portato e che sarà mai che è che è c'hai un coso di crini addosso che ti pizzica un po' non è che sei scotennato vivo capito che ti stanno a fare lo scalpo gli avasci cioè non succede niente non succede cioè è un piccolo sacrificio una piccola sofferenza piccola ma che agli occhi di Dio c'è un valore grande che è grandemente meritorio questa è pura dottrina cattolica il padre mio si compiace talmente tanto di questo sentite che piega la sua divina mi si ricorda verso il peccatore in modo che si rapida e si converta in virtù di quella penitenza ovviamente unita con i miei meriti ecco perché ci vuole la consagrazione a totus tu se uno non l'ha fatta deve avere l'intenzione perché le nostre penitenze da sole vanno con la ok perché noi siamo peccatori oltre che uomini quindi non ci hanno né valore infinito perché devono essere uniti a quelli di Gesù Cristo né tantomeno sono esenti da colpa perché io che faccio io devo offrire un filo di penitenza assoluto per me se il Signore l'accetta ok quindi bisogna passare per Maria che prende le nostre cose e anzitutto le purifiche le abbellisce le rende degne di presentarle al Signore il Signore le unisce ai suoi meriti e lì poi sono guai tra virgolette cioè sono guai per l'inferno nel senso che quelle cose sono efficaci nessuna delle nostre penitenze sarà senza effetto nessuna se le facciamo ovviamente quindi pensate che bel servizietto che fa chi va dicendo in giro che queste cose non servono più a niente che tanto Gesù Cristo ha già sofferto per noi e che se fai il digiuno non serva a niente e che se ti metti a fare queste cose addirittura offendi Dio qualcuno dice perché come ti permetti tu ti pensi non basta quello che ha fatto il nostro Signore tu vorresti aggiungere qualcosa e la peppa quindi capiamo no qui amici cari questa è la quintessenza dell'ultima cattolica e conclude beata te se per mezzo delle tue penitenze e delle tue offerte e preghiere si convertiranno i peccatori a penitenza e ancora tutte le tue opere meritorie uniscile a queste e offrite per questo fine e quindi capiamo amici che veramente tantissima roba veramente tanta 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 roba questa è la quintessenza della dottrina cattolica grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per l'istruzione che hai rinnovato alle nostre coscienze, ai nostri cuori, e ora ovviamente, specie o una meditazione di questo genere, lascia ampio spazio al nostro cuore, ai nostri propositi, per poterla mettere in pratica. Ciascuno, secondo le proprie possibilità, non serve fare, tutti sono chiamati a fare chissà quali grandi sacrifici o penitenze, ma tutti nel nostro piccolo possiamo e dovremmo, se siamo intelligenti, contribuire, unendo le nostre povere forze a due infiniti meriti, per la salvezza del maggior numero di anime. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.